Bentornati sulla playlist di chimica. Oggi andremo a vedere che cosa sono gli elementi e che cosa sono i composti. Questa lezione è propedeutica per capire poi la tavola periodica. Iniziamo quindi a vedere che cosa sono gli elementi. Tutte le sostanze che conosciamo sono costituite da un numero relativamente piccolo di componenti che vengono chiamati elementi. Questi elementi sono appunto delle sostanze che non possono essere decomposte, quindi scomposte, divise in sostanze più semplici. Sono quindi come dei mattoncini che formano qualsiasi altra sostanza. In totale gli elementi sono 118, li troviamo sulla tavola periodica, e 94 sono naturali e 24 sono artificiali o sintetici, cioè sono creati dall'uomo. Ecco, su questi numeri c'è un po' di dibattito principalmente perché a seconda di dove prendiamo le informazioni abbiamo una piccola discrepanza tra questi numeri. Comunque teniamo presente che circa 94 sono naturali e circa 24 artificiali. Sicuramente per adesso gli elementi scoperti sono 118. Anche qua faccio una piccola parentesi, siccome esistono anche quelli sintetici, gli elementi scoperti sono 118, comprensivi anche di quelli creati totalmente dall'uomo in laboratorio. Gli elementi vengono identificati con un nome che spesso è derivante dal latino, e aggiungo io, o dall'inglese, e da un simbolo. Vediamo infatti alcuni esempi come Na, che sta ad indicare il sodio. Ecco che questo deriva appunto dal latino, come anche Au, che sta ad indicare l'oro. Infatti si dice molto spesso ancora oggi riserve auree, questo è il termine per indicare qualcosa che riguarda l'oro, aurifero. Poi abbiamo il simbolo del mercurio, che è l'unico metallo liquido, lo vediamo ben in foto, Hg. E poi abbiamo il silicio Si, e ce ne sono ovviamente 118. Qua vengono portati solo alcuni esempi, tra l'altro vi faccio già notare che sopra al simbolo dell'elemento c'è anche un numerino, che tra poco andremo ad approfondire, e la cosa che mi preme dirvi soprattutto è che ogni elemento può essere indicato da una lettera maiuscola oppure da una lettera maiuscola più una minuscola. Di conseguenza ogni volta che troviamo una lettera maiuscola, che sia seguita o no da una minuscola, sappiamo che quello è un nuovo elemento. Di conseguenza se noi troveremo Na e la A è minuscola sapremo che quello è il sodio. Se invece trovassimo N maiuscolo e A maiuscolo stiamo parlando di due elementi, perché ogni elemento inizia con la lettera maiuscola. Ovviamente le prime volte che vedrete la chimica potrete avere dei dubbi, poi dopo qualche volta che inizierete a capire come funziona la chimica e a leggere le formule chimiche sicuramente non ci saranno più dubbi, diventerà tutto molto molto automatico. Però mi premeva fare queste precisazioni soprattutto per chi si sta avvicinando per le prime volte a questa materia. E dicevamo quindi che gli elementi sono 118. Ecco che qua li vediamo tutti distribuiti sulla tavola periodica degli elementi. Come vediamo tra l'altro sopra ogni elemento c'è un numerino, ecco questo numerino si chiama numero atomico. Ma che cos'è il numero atomico? Innanzitutto ci serve per mettere in ordine i nostri elementi. Come vedete sono messi in successione proprio rispetto relativamente al loro numero atomico. E allora dobbiamo dire però che cos'è questo numero atomico. Allora il numero atomico ci indica il numero di protoni che è presente nel nucleo degli atomi di quell'elemento, che è ovviamente uguale a quello degli elettroni come già sappiamo. E questo numero è caratteristico di ogni elemento e viene scritto vicino al simbolo chimico. Cioè in sostanza il numero atomico ci indica il numero di protoni presenti nel nucleo di quell'elemento. Di conseguenza tutti gli atomi di quell'elemento avranno quel numero atomico. Cosa vuol dire? Che tutti gli atomi di quell'elemento avranno quel numero di protoni. Di conseguenza capiamo che ogni elemento si distingue dall'altro rispetto al numero di protoni. Quindi non per il colore o qualsiasi altra caratteristica che ci può venire in mente, ma rispetto al numero di protoni. Ad esempio, vi ho messo qua un piccolo esempio ma ne faremo altri, tutti gli atomi con un solo protone nel nucleo sono per forza atomi di idrogeno. E allora andiamo a vedere quello che ho detto. Quindi se io trovo H con 1 come numero atomico sarò sicuro che l'atomo di idrogeno sarà fatto da un protone e poi ovviamente, questo l'abbiamo già studiato per quanto riguarda la struttura atomica e vi lascio il video nella descrizione, da un elettrone. Questo perché ovviamente il protone simbolo più deve essere equilibrato con un elettrone con simbolo meno così che l'atomo poi nel complesso sia neutro. Possono essere persi gli elettroni? Certamente che sì, anche qua vi lascio vedere il video riguardante l'atomo in cui parlo anche sia degli isotopi, infatti qua i neutroni non li ho inseriti apposta, andate a vedere quel video per capirne di più, e dove parlo anche degli ioni, quindi quando se ne va oppure viene agganciato un elettrone in più. Questo perché gli elettroni sono piccolissimi, sono molto leggeri e quindi può essere sempre che vengano o rubati o presi da quell'atomo. Di conseguenza l'unica particella che ci permette di identificare un elemento è il protone, o meglio il numero di protoni. di conseguenza se io ho un elemento come l'elio, che ha numero atomico 2, mi sta ad indicare che questa particella, questo atomo, è fatto da due protoni e ovviamente con i rispettivi due elettroni. Così se vado sul numero 3 della mia tavola periodica, cioè il litio, avrò come numero atomico ovviamente 3, di conseguenza vorrà dire che il suo nucleo sarà composto da tre protoni con tre elettroni che gli girano intorno. Come vedete quindi ogni elemento è determinato dal numero di protoni presenti nel nucleo dei suoi atomi. Sostanzialmente l'elemento che cos'è? L'elemento è come se fosse un po' la specie di atomo. Tutti gli atomi di elio avranno due protoni al loro interno e tendenzialmente due elettroni, ma come sapete esistono anche lì gli ioni. Però ecco, tutti gli atomi di elio avranno due protoni. Se io aggiungo un protone al nucleo, ecco che sto parlando del litio. E infatti le reazioni di fusione e fissione nucleare vanno proprio a creare degli elementi nuovi. Perché se io ovviamente vado a scindere, vado a fare una fissione sul nucleo di un elemento, vado a spezzare quindi il nucleo, di conseguenza andrò a diminuire il numero di protoni e otterrò due elementi diversi, che derivano ovviamente da questa scissione, da questa fissione. Se io invece vado a fondere due nuclei, andrò ad ottenere ovviamente un elemento che avrà dei protoni in più. Di conseguenza, come avviene ad esempio sul Sole, se io eseguo una fusione nucleare tra dei protoni, tra degli atomi, diciamo così, di idrogeno, che in quel momento lì però sono sotto forma di plasma, io andrò a creare un atomo di elio. Ricordo ovviamente che in tutte le lezioni di chimica, soprattutto nelle prime, non si parlerà spesso di fissione fusione nucleare, perché sono due avvenimenti estremi che avvengono o in laboratorio per quanto riguarda quello che avviene sulla Terra, oppure sulle stelle, la fusione nucleare avviene sulle stelle. O meglio, sulla Terra ci stiamo provando, la sappiamo far avvenire, non la sappiamo controllare bene, di conseguenza ci sono vari studi che stanno provando a creare una fusione nucleare controllabile, gestibile e poi commerciabile su larga scala così da fornire energia alla civiltà. Però possiamo generalizzare dicendo che in natura sul nostro pianeta non avvengono fusioni e fissioni nucleari, e cioè nella maggior parte dei casi, nella quasi totalità delle reazioni che andremo a vedere, un atomo di idrogeno rimarrà idrogeno, un atomo di elio rimarrà elio, un atomo di litio rimarrà litio, non andranno mai a fondere i nuclei o a scindere i loro nuclei. Di conseguenza tutte le reazioni che vedremo saranno molto 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 specifiche per quegli elementi che andremo a trattare. Andiamo a vedere cosa sono i composti adesso. Perché se noi uniamo due o più elementi insieme e li combiniamo secondo rapporti di massa costanti, e questo l'abbiamo già visto nella legge di Proust, vi lascio il video in descrizione, e cioè il numero degli atomi presenti nella molecola rimane sempre lo stesso, ecco che otteniamo un composto. Ad esempio l'acqua, che è presente in qualsiasi recipiente, sarà sempre composta da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Quindi che cos'è un composto? Come dice la parola, un composto è appunto un qualcosa composto da più elementi. Quindi due o più elementi formano un composto, cioè se noi proviamo a scindere un composto otteniamo gli elementi. Gli elementi invece di conseguenza non sono più scindibili, non possiamo andare a dividere ulteriormente gli elementi, perché gli elementi sono i mattoncini base. Se li uniamo otteniamo i composti. Ecco che quando gli elementi reagiscono tra loro formando un composto, le proprietà degli elementi singoli lasciano il posto alle proprietà del composto, e questa cosa è molto importante e molto particolare. Con una reazione chimica, tra l'altro, è anche possibile scindere un composto nei suoi elementi costitutivi. Ma cosa vuol dire questo? Andiamola a vedere con un esempio. Se noi prendiamo un elemento come il sodio, vedete un elemento metallico, a temperatura ambiente è solido, è lucente, è il classico metallo, e lo andiamo ad addizionare, lo facciamo reagire con il cloro, che invece è un elemento gassoso, tendenzialmente giallo. Quindi vediamo il sodio, simbolo chimico come vedete Na, che reagisce con il cloro, simbolo chimico Cl, uno è un solido metallico, l'altro non è un metallo ed è gassoso. Cosa otteniamo? Bene, andiamo ad ottenere un composto chiamato NaCl, che molti di voi sicuramente hanno già sentito nominare come cloruro di sodio, e la totalità di voi lo conosce come sale, o meglio, sale da cucina. Questo perché esistono tanti tipi di sali, quello che utilizziamo noi in cucina, è il cloruro di sodio, che è un composto sì solido, ma bianco, fatto in granelli, totalmente diverso sia dal sodio sia dal cloro. Parentesi, il sodio lo possiamo mangiare? No. Il cloro lo possiamo mangiare? Ovviamente no. E l'NaCl lo possiamo mangiare? Sì, lo mangiamo tutti i giorni. Lo mettiamo addirittura nella pasta. Ovviamente, come in tutte le sostanze che mangiamo, c'è un limite a cui ci dobbiamo mantenere perché sennò stiamo male lo stesso, ma è sicuramente molto commestibile. Ecco, questo proprio per farvi vedere come le proprietà di un composto possono essere nettamente diverse dagli elementi che lo vanno a costituire. E adesso andiamo a fare un parallelismo con i termini atomo e molecola e elemento e composto. E cioè, come ci dobbiamo esprimere? Cosa vogliono dire questi termini? Allora, l'elemento è la tipologia di atomo. Di conseguenza ci sarà un atomo per ogni elemento, e cioè ogni elemento ci sarà almeno un atomo che va a determinare quell'elemento. Noi abbiamo un atomo per ogni tipo di elemento, e cioè sulla tavola periodica ci sono segnati 118 elementi. Ecco, noi avremo almeno un atomo che è di quell'elemento lì. Quindi, diciamo così, in natura, nella realtà che ci circonda, conosciamo 118 tipi di atomi, perché l'elemento è proprio il tipo di atomo. Ecco che invece la molecola è l'insieme di più atomi, quindi noi possiamo avere una molecola di un elemento quando abbiamo due o più atomi di uno stesso elemento che vanno ad unirsi, vanno a legarsi tra loro. Questo è molto comune soprattutto per i non metalli. Ad esempio l'ossigeno, che noi respiriamo costantemente, è una molecola biatomica. Ovviamente l'elemento è ossigeno, solo che noi lo segniamo sempre come O2, poi andremo a vedere come si fa la nomenclatura. Questo perché gli ossigeni viaggiano nell'aria sempre in coppia, come se andassero in giro sempre per mano, come la molecola che vi ho disegnato. Quindi la molecola O2 è una molecola di un elemento, non è ancora un composto, perché ovviamente è fatto solamente da un tipo di elemento, da un tipo di atomo. Cosa ovviamente è diversa invece per molecole che possono essere formate, quindi composte, da più tipi di atomi. E quindi abbiamo delle molecole di composti. I composti, lo vedete ovviamente facendo un semplice ragionamento, sono per forza delle molecole, perché il composto è fatto da più elementi, quindi sicuramente almeno due tipi di atomi diversi. Qua vi ho disegnato un esempio, la molecola di acqua. La molecola di acqua, l'acqua è anche un composto, perché è formata da idrogeno e ossigeno, precisamente due atomini di idrogeno e uno di ossigeno, che è un po' più grosso. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro su questo punto, perché ovviamente su questi termini io noto che c'è sempre un po' di difficoltà nel capire la differenza. Andiamo a vedere l'ultima cosa. Sempre proiettando la tavola periodica, che poi andremo ad esaminare in maniera più specifica in un altro video, notiamo come ci sia una prima parte della tavola, che io qua vi ho colorato in azzurro, che è quella dei metalli, e cioè c'è più della metà della tavola, che è costituita da elementi metallici. Gli elementi metallici, in genere, si trovano quasi sempre combinati con elementi non metallici, e solo alcuni come rama, argento e oro reagiscono scarsamente con altri elementi, e quindi li troviamo allo stato libero. In genere i metalli, gli elementi metallici, sono solidi a temperatura ambiente, tranne il mercurio che, come vi ho detto prima, è liquido, sono lucenti, duttili e malleabili, ma soprattutto conducono bene calore ed elettricità. Gli elementi metallici sono circa 90, come vedete più della metà della tavola periodica. Come vedete però, a destra della tavola periodica, c'è una scaletta in rosso, e a ridosso di questa scaletta ci sono degli elementi in verde, perché tra i metalli e non metalli sono presenti i semi metalli, che hanno proprietà intermedie e sono il boro, il silicio, il germanio, l'arsenico, l'antimonio e il tellurio. A temperatura ambiente sono tutti solidi, sono semiconduttori e per questo li abbiamo sicuramente già sentiti, perché trovano ampia applicazione nell'industria elettronica. E se andiamo totalmente a destra nella tavola periodica, vediamo questi elementi in giallo. Troviamo anche degli elementi in grigio oscuro, che sono i gas nobili. Questi elementi in grigio oscuro, cioè i gas nobili, fanno sempre parte dei non metalli, cioè fanno sempre parte di quella parte della tavola che è colorata di giallo, solo che hanno delle proprietà un po' particolari, li andremo poi a vedere in seguito. E i non metalli dobbiamo dire che si combinano tra loro molto spesso per formare dei composti, ma, ad esempio H2O potete anche prenderlo come esempio, ma si combinano anche con i metalli. Alcuni si possono trovare in natura anche lo stato libero, come vi ho fatto prima l'esempio dell'ossigeno. A temperatura ambiente sono tutti solidi o gassosi, tranne il bromo che è liquido. Sono cattivi conduttori di calore ed elettricità e gli elementi non metallici sono meno di 20. E qua in figura vi ho rappresentato gli elementi non metallici con un diamante, perché è sostanzialmente del carbonio che va a cristallizzare in questa forma, che appunto noi conosciamo come diamante. Nelle altre immagini che mi sono dimenticato, nell'immagine per i metalli vedete una pirite, che è uno dei metalli da cui si estrae più facilmente il ferro, mentre invece vedete un microchip per quanto riguarda i semi metalli, perché appunto essendo semiconduttori vengono impiegati appunto per costruire questi chip. Bene ragazzi, questa lezione la concludiamo qua. Nella prossima lezione andremo ad esaminare in maniera più specifica la tavola periodica e successivamente anche le proprietà della tavola periodica, quindi le proprietà dei vari elementi. Io vi ringrazio per l'attenzione, se la lezione vi è stata utile vi invito a lasciare un like e se avete voglia di fare una piccola donazione che per me è super importante per permettermi di continuare a fare questo lavoro. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.